Diciamo che nella vita mi sono sempre ritrovata abbastanza scomoda, perché ho sempre cercato di mettermi in situazioni scomode, perché veramente non l'ho mai capito, ma probabilmente la maggior scomodità è cominciata quando ho deciso di lasciare le agenzie, di licenziarmi nel momento di maggior successo della mia carriera per seguire i miei sogni e IF è scomodissimo.